Un giorno a Roma ci sono in un taxi un americano e un francese. A un certo punto esce fuori un americano che fa il francese. A noi in America un popolo molto 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 forte. Aveva fatto stato della libertà in due giorni neanche così. Allora esce a fare il francese. Allora noi in Francia il popolo è ancora più forte. Aveva fatto tutto Raffaele in una giornata e neanche tutte. E a un certo punto l'autista che era di Treia in provincia di Maciallata si fa che li sta ascoltando. Si fa ma che sta sparaschicare questi. Ma proprio smattiti. Allora a un certo punto il francese, l'americano qui è, passa davanti, mentre passano davanti al Colosseo. Mi fa. Mi scusse il signor autista cosa è stato questo? L'autista. E che ne so. Nezz'ora fa mica c'era. Demo. Sì.